A Rezzo Wave si va avanti. Ormai manca solo l'ufficialità. Lo storico festival Aretino tornerà in città, al parco di Villa Severi. Nella giornata di martedì c'è stata una riunione tecnica tra Mauro Valenti, gli assessori Romizzi, Dringoli e Gasperini con la partecipazione dei dirigenti degli uffici Verde Pubblico e Polizia Municipale. Ci sono chiaramente da puntualizzare alcuni aspetti, ma il più sembra fatto. Così come le date, il festival inizierà il 18 luglio e terminerà il 21. C'è però da risolvere l'inghippo di un evento per il quale l'associazione Melodica aveva fatto richieste in precedenza, la festa della birra. Della questione se ne sta occupando direttamente l'assessore alle politiche giovanili, Francesco Romizzi. L'obiettivo è quello di trovare un'altra collocazione temporale in modo da permettere entrambi gli eventi. Vedremo se dopo le prime rimostranze l'associazione accetterà di svolgere la propria manifestazione in un'altra data. L'interesse ovviamente della città è quello di riportare Arezzo Wave proprio laddove era nato e dove probabilmente ha ottenuto i suoi migliori successi.